Giornata positiva sui listini al chiusore di una settimana positiva, lo vediamo dalla grafica, tutte le borse europee hanno chiuso il rialzo, ma appunto anche quelle americane e anche nella settimana. Oggi in realtà non sono stati tantissimi gli spunti, un po' è stato l'astracinamento dalla giornata positiva di ieri dopo il taglio dei tassi della BCE che ha aperto la strada ad un ulteriore taglio a dicembre, ma oggi sono state anche positive alcune notizie arrivate dalla Cina e il Paese ha annunciato, il governo ha annunciato nuove misure di stimolo all'economia, cosa che ai mercati piace perché l'economia cinese è uno dei grandi punti di domanda internazionali perché il rallentamento cinese ha impatti ovviamente su tutta l'economia globale a partire da quella europea. Quindi queste notizie hanno un po' sostenuto i listini ma poi non è successo granché e quindi le borse diciamo sono andate a rialzo un po' con un effetto di trascinamento e di corsa che era già iniziata nei giorni scorsi. Le notizie però sono arrivate da un altro fronte, da altri due fronti. Da un lato lo spread tra i BTP e Bund è sceso ai minimi, già era sceso ieri, oggi è sceso ulteriormente ai minimi da tre anni e la cosa è curiosa, su questo bisogna un attimo soffermarsi, è curioso perché siamo nel momento in cui il governo sta varando la manovra e solitamente quando il governo varia la manovra è un momento difficile, per i mercati è un momento di tensione, con incertezza e questo solitamente fa salire lo spread, non lo fa scendere e poi tra l'altro stasera a mercati chiusi, dopo la chiusura dei Wall Street, arriveranno i giudizi, le pagelle di Standard & Poor's, anzi S&P Global Ratings, il nuovo nome e Fitch sull'Italia. Anche questo potrebbe creare tensione, comunque apprensione sui mercati. Ebbene non c'è nessuna pressione, nessuna tensione, anzi il contrario, i mercati stanno comprando BTP, tanto è vero che lo spread sta scendendo appunto ai minimi da tre anni sotto i 120 punti base. Perché? E qui sono tante le motivazioni, un po' perché la trattativa sulla manovra non sta creando tensioni con l'Europa, i mercati hanno la percezione di una manovra che possiamo giudicare le varie misure ma nel suo complesso è attenta ai conti pubblici e questo piace ai mercati e quindi c'è una fiducia crescente appunto sulla tenuta dei conti pubblici italiani nonostante ovviamente lo sappiamo tutti l'elevatissimo debito. Attualmente il focus dei mercati è un po' più diciamo teso guardando la Francia più che l'Italia, è entrata più la Francia nel mirino dei mercati che l'Italia e questo aiuta e fa scendere il nostro spread. L'altra storia del giorno, che in realtà non è del giorno ma è di tanti giorni ma oggi è comunque la sua storia, è l'oro. L'oro è salito, ha superato la soglia dei 2.700 dollari a Loncia, record storico, ennesimo record storico che ha già toccato anche nei giorni scorsi, ormai da mesi che tocca il record storico, anche questa è una storia curiosa. È una storia curiosa perché da un lato abbiamo le borse sui massimi storici e le borse salgono sui massimi storici quando gli investitori hanno voglia di rischiare però anche l'oro sui massimi storici che in realtà è un bene rifugio e quindi c'è una contraddizione in termini tra le due cose. Come mai questo accade? Le motivazioni sono probabilmente tantissime, una delle motivazioni è la Cina anche qui. La Cina sta acquistando moltissimo oro, soprattutto la banca centrale, ma non solo perché dopo che sono state congelate le riserve in Russia, quando la Russia invase l'Ucraina, la Cina ha deciso di avere meno riserve valutari, un po' più riserve, accumulare più riserve in oro e quindi c'è stata una corsa d'acquisto poi fomentata anche da altre motivazioni sia dall'India, da altri paesi e quindi c'è l'oro che nonostante un momento comunque positivo sulle borse e quindi voglia di rischio, l'oro che è bene il rifugio per eccellenza è ai massimi storici.